L'ultima trasmissione dalla nave del Capitano proveniva da questa zona, oltre 12 ore fa. Da allora non siamo più stati in grado di metterci in contatto con il Capitano o con la sua squadra. Quando localizzate il Capitano chiamatemi per radio che vengo a prendervi. Capitano, Capitano. Capitano, Capitano. Capitano, Capitano. Mettetevi in salvo! 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 Mendoza, datti una mossa Vai dalla seconda squadra e scopri cosa sta succedendo Ma... Non ho tempo per le chiacchiere, soldato, ti ho dato un ordine Sergente, ascolti E questo cos'è? Da dove viene questa roba, Mendoza? È ovunque Non... Di là, guardate!